Il giorno e la storia. Oggi è il 3 in marzo. 1944 la più grave sciagura ferroviaria d'Italia. 1961 primo volo delle frecce tricolore. 1942 muore Amedeo di Savoia. Commenta il fatto del giorno Paolo Possamai, direttore di Il mattino di Padova. Ho scelto Gian Domenico Tiepolo, un grande, nonostante abbia avuto un padre così grande.